Da quando sono bambino ho visto la serie tv anni 60 di Batman con Adam West un po' scemo. Da bambino ovviamente per me era completamente serio, non ho capito minimamente la comicità diciamo così e da lì sì, diciamo che tutta la vita Batman, il mondo di Batman è stato per me una passione. Quanti sono? Quattro anni delle uscite del libro? È pensato che sarebbe bello anche per un'edizione speciale così di rivisitare il progetto anche riguardando insomma varie cose che sono successe durante l'uscita del libro e usarlo come come spunta di ispirazione per una copertina nuovo. Ok, io e Brian ci siamo conosciuti credo 20 anni fa, forse 22 anni fa. Mi è piaciuto molto perché lui gioca con linguaggio molto, lui è un scrittore che non è standard nel mondo dei fumetti. All'epoca pensavo che sarebbe stato un bel matrimonio diciamo creativo fra fra io e lui e in effetti abbiamo negli anni avuto le conferme che praticamente abbiamo molto, condividiamo molti punti di vista, vogliamo fare un approccio sempre un pochino, come posso dire, un nervo scoperto. Noi piace questa idea di trovare un po' di spazio fra il chord e il discord, quindi un spazio e mezzo dei personaggi che facciamo che magari non sia standard però è nostro. Quindi ormai abbiamo fatto quanti? Cinque progetti insieme credo. Grazie a tutti.